Per affrontare questi temi e molto altro, oggi abbiamo con noi persone che personalmente considero eccezionali. Io sono fiero di essere con i miei colleghi, tanti altri colleghi, Giorgio, Vladimir, Stefano, e anche altri, di essere riusciti a organizzare questa giornata con queste persone. E loro sono qui per darci degli stimoli importanti che ci aiutino a riflettere prima per lavorare poi nei gruppi, come avete visto, da programma. Introduco il primo di queste persone che ci aiutano oggi, che è Andrea Moro. Andrea Moro è una presenza davvero di eccezione. Andrea Moro è docente ordinario di linguistica generale alla Scuola Superiore Universitaria di Pavia, nonché rettore vicario. Per dieci anni è stato ordinario all'Università San Raffaele. Visitor, visiting scientist dell'MIT di Boston e di Harvard. Ricercatore, collega, collabora con Noam Chomsky da parecchi anni, anche recentemente sta facendo delle cose, è oltre che un linguista, è un neuroscienziato molto importante e ha pubblicato, se andate su internet, un'infinità di libri, è difficile ricordarseli anche tutti, tra l'altro sia in italiano che in inglese, perché è spesso in America per conferenze. Ne cito solo uno molto noto, che è Ai confini di Babele, ma poi anche Parlo dunque sono, l'è recentemente uscito Linguaggi impossibili, che ha preso anche un premio negli Stati Uniti, ho letto, questo non me l'avevi detto, ma insomma. E fra l'altro adesso è anche un romanziere, perché ha scritto I segreti di Pietramara, che è un romanzo un po' all'Umberto Eco, un po' che è stato presentato al Salone del Libro di Torino recentemente. Io lascio a lui la parola che naturalmente ci parlerà di un tema importante, anche spero nuovo, e interessante per voi, che è il rapporto fra cervello e linguaggio. Grazie. Grazie di questo invito, grazie alla sensazione di questo invito, grazie anche del contesto. Non posso che condividere le parole di apertura molto importanti sulla strategia di formazione come abbattimento degli steccati accademici, quindi collegi, evidentemente appartenendo dalla scuola superiore, ora federata con Sant'Anna e scuola normale, questa è una missione condivisa e che sarà il futuro della formazione. Poi, continuando un pezzo alla tua riflessione, essendo questo un approfondimento e per definizione noioso, quindi dovrò cercare in qualche modo un antidoto a queste cose, ma l'antidoto è nelle cose, perché il linguaggio non può non appassionare. Quello che vorrei condividere con voi oggi è proprio questo fatto, cioè che il linguaggio si trova per certi versi a essere lo spartiacque della scommessa delle neuroscienze sull'uomo, sia in senso positivo sia in senso negativo. C'è tanto millantato credito sulle scoperte di tipo neuroscientifico e forse conviene soffermarci. L'immagine che ho scelto è una manipolazione matematica del cervello che ci serve per vedere le fasi attive, però siccome sembra un po' un mondo con un buco, è come se il babele, che è un po' il prototipo della incomunicabilità in una giornata dedicata alla formazione, potrebbe essere proprio il pretesto per farci capire come invece esistono degli argini naturali a questa babele, che forse invece che una dannazione, almeno nel mio modo di vedere, anche se non so se riuscirò a dirlo qui oggi, è un dono. Partiamo dalla scoperta più importante della linguistica del Novecento, i cui effetti li vediamo ancora oggi nei centri di ricerca. La più grande scoperta sulla natura e struttura del linguaggio umano è che non tutte le regole concepibili si realizzano nelle lingue del mondo, cioè vale a dire se noi oggi decidiamo che da ora in poi nelle nostre email comunicheremo con una regola artificiale che convenzionalmente decidiamo, ecco non è detto che questa regola si trovi davvero nelle lingue del mondo. Questa ovviamente apre una domanda fondamentale, il fatto che non si trovi una regola nelle lingue del mondo è dovuto a una convenzione, è dovuto a un fatto culturale o dipende da come siamo costruiti noi? Spesso agli studenti al primo anno io dico guardate se noi dovessimo fare una riflessione analoga su come ci alimentiamo è evidente che alcune restrizioni sono culturali, oggi nel buffet non troverete un cocktail di cimici si spera, uno dice almeno non volontario, insomma a Pavia se ci fosse zizzanzare lo troveresti sicuro ma insomma escludendo la geopolitica, questo perché? Perché nella nostra cultura per ora gli insetti non sono volontariamente commestibili, però sappiamo bene che esistono popolazioni nel mondo in cui gli insetti sono il pane quotidiano per così dire, utilizzando una metafora. Ecco la domanda è ma il fatto che noi usiamo soltanto alcune regole è un po' simile al motivo per cui noi non mangiamo gli insetti o dipende da come siamo costruiti, per esempio nessuno di noi berrebbe un cocktail di cherosene ma qui non è una questione culturale, è veramente solo una questione organica in modo in cui noi siamo costruiti. Vedete c'è un problema che a me piace enucleare tutte le volte del fatto che spesso l'analisi scientifica in campo biologico in modo preferenziale ma non solo è inquinata dai pregiudizi, pregiudizi ideologici che se non li smontiamo rischiano di condizionare la riuscita dell'esperimento, le osservazioni e anche il futuro concreto, la progettazione di tools, di meccanismi e di utensili che potrebbero essere poi utilizzati. Dunque vi leggo una brevissima citazione da un testo che non vi dato all'inizio perché voglio farvi capire quanto è stata profonda l'importanza della pregiudizio ideologico nella linguistica. Una ricerca biologica sul linguaggio appare necessariamente paradossale dal momento che viene così ampiamente ammesso che le lingue consistono di convenzioni culturali di natura arbitraria. Questo caveat compare non in un testo ottocentesco, compare in un testo della fine degli anni Sessanta quando ancora il linguaggio veniva ritenuto esclusivamente un fatto culturale convenzionale di natura arbitraria, un po' come i colori del semaforo, non c'è niente nel giallo che sia intrinsecamente legato all'attesa, c'era bisogno di tre colori visibili, distinti da utilizzare per comunicare. Se oggi comprate questo testo di Eric Lenneberg è stato un neuropsicologo al Massachusetts General Hospital di cui Chomsky fu un giovane correttore di bozze di questo testo. Oggi gli studi... voi ci vedete? Forse c'è troppa luce, no? Si vede? Riuscite a leggere però? A leggere sì. Allora l'immagine va bene anche sfocata per ora però quelle dopo mi sa che forse conviene spegnere un po'. E questo che voi vedete, Principle of Neurosciences, è forse la Bibbia senza dubbio più frequentata agli studenti di neuroscienza. Se voi aprite il primo capitolo di questo testo scritto da un premio Nobel per la medicina che è Eric Kandel, vedete che il caveat viene sciolto immediatamente. Ma allora qual è la sfida che oggi ci troviamo di fronte? Una sfida veramente concreta, cioè non una sfida ideologica e... ecco sono arrivato anche con la C, che è Carlo, che non me lo dicono mai, ma insomma grazie. Ce l'ho solo nel codice fiscal, buon segno, quindi va bene. La grande sfida che noi ci troviamo di fronte parte da un dato di fatto. Il dato di fatto è che noi sappiamo che il linguaggio dipende dalla... almeno lo sappiamo dalla metà dell'Ottocento dipende da un pezzo, da una rete che noi abbiamo nel cervello. Questo che voi vedete forse è uno dei cervelli più famosi del mondo ed è il cervello di un paziente che alla metà dell'Ottocento bussò alla porta di un ospedale parigino e quando gli aprirono lui fu solo capace di ripetere una sola sillaba, TAN. Aveva tutta la mimica, era vestito bene, sapeva comportarsi, girare per la città, solo che non aveva più linguaggio, era solo TAN. Fu ricoverato, fu soprannominato TAN TAN dai medici, purtroppo peggiorò, iniziò un'emiparesi destra del corpo, questo emiparesi lo portò alla morte, era l'esito di un peggioramento di una sefilide che aveva evidentemente contratto, Messie Le Bonne, questo era il vero cognome e al momento dell'autopsia il medico si rese conto che nel cervello c'era un rammollimento in una zona precisa e quindi fece uno più uno e disse se l'unico disturbo era un disturbo del linguaggio e questo è l'unico problema che io trovo dal punto di vista organico nel cervello, io associo la funzione del linguaggio almeno all'attività di quest'area. Il dottore si chiamava Broca, questa si chiama da allora area di Broca e noi sappiamo da allora che il linguaggio dipende in tutti gli individui destrimani e nel 70% dei mancini da una attivazione dell'emisfero sinistro, ma questo non è il problema che si sta affrontando oggi e credetemi lo si sta affrontando nei centri di neuroscienze ma soprattutto nei grandi centri di produzione di software per l'interazione computer per essere umano. Quindi Google per esempio ha speso una quantità di soldi spaventosa. In questi giorni Chomsky si è spostato da MIT a Arizona University l'anno scorso, MIT ha messo in campo una cifra quasi paragonabile a un miliardo di dollari per una sola istituzione per la costruzione di un cervello che apprende. Ve lo dico solo, non entra una polemica che per me aprirebbe 40 porte aperte, però per farvi vedere come la questione dell'apprendimento e quindi dell'apprendimento come processo automatico sia talmente importante che convegni come questi che si focalizzano su queste idee sono decisamente opportuni anche perché si misurano sull'efficacia che poi ha con le persone davvero. Allora la grande sfida è appunto se i tipi di regole delle grammatiche dipendono anch'essi in un modo interessante dal cervello. Ovviamente il cervello è una... scusate, ovviamente il linguaggio è un universo. Noi con il linguaggio possiamo comunicare, pregare, ordinare, commuovere, ridere, scherzare, ordinare, fare violenza. È un po' il nostro universo di esseri umani. Però di tutti i fenomeni del linguaggio, quindi la fonologia, la semantica, la psicologia e tutto quanto ci si può focalizzare su alcuni aspetti. Un po' come fece Galileo con la fisica invece che considerare tutti i fatti del mondo si può concentrarsi soltanto su uno. Quello su cui ci si concentra è la sintassi. Questo fu il passo geniale che fece Chomsky nella fine degli anni 50 quando capì che questo dominio del linguaggio era estremamente importante perché permetteva una manipolazione a descrizione di tipo matematico. Immaginiamo un micro dominio di sintassi con tre parole, uccise Abele e Caino. I nostri cervelli che sono cervelli umani sanno bene che con tre parole di questo tipo noi possiamo costruire due significati opposti semplicemente cambiando l'ordine delle parole. Ecco questa cosa che voi vedete qui rappresentata non la sa fare nessun animale. Nessun animale. Nessun organismo vivente sa comunicare permutando un numero limitato di segni. L'ordine non fa parte della costruzione semantica comunicativa di tutti gli altri organismi. E' per questo che in un certo senso la sintassi come peraltro diceva Cartesio. Cartesio disse pensate non esistono persone che non siano capaci di disporre insieme delle parole e con esse comporre un discorso con il quale far intendere il loro pensiero. E al contrario non esiste un altro animale tanto perfetto posto in una condizione tanto favorevole da poter fare una cosa simile. Quindi la consapevolezza che lo spartiacque tra noi esseri umani e tutti gli altri esseri viventi è la sintassi perché anche gli altri viventi hanno ovviamente un linguaggio ma non dotato di sintassi. Vedete non è soltanto un interesse pratico ma è anche un interesse per chi per esempio si chiede da dove veniamo noi. Cioè il problema evolutivo della nostra specie. Come mai siamo gli unici ad avere questa caratteristica. Ovviamente da allora a oggi si sono anche accumulate evidenze tipo sperimentali. Noi c'è un esperimento bellissimo fatto da un maestro che è stato uno dei primi studenti di Chomsky, Thomas Bever che ora sta anche lui in Arizona e poi da Laura Ann Petito che è una psicologa canadese ovviamente di origine italiana che state anche per un anno a San Raffaele. Provarono ad addestrare un cucciolo di scimpanzè. Noi condividiamo con loro il 98% del genoma e si vede che lo scimpanzè imparava 130 parole senza problemi. Sono tante 130 parole. Lemmi direbbero i linguisti ma non era capace di su 19.000 frasi non una differiva dall'altra per l'ordine delle parole. Quindi possiamo essere sicuri che questo è il vero spartiacque. Ora però siccome io sono un appassionato di divulgazione scientifica e non mi piace l'allusione nella divulgazione. Mi piace toccare con mano l'aspetto concreto. Vorrei darvi, ho cercato di sintetizzare in una sola slide, il nucleo essenziale di tutte le regole delle lingue umane e l'ho fatto con un esempio semplice. Immaginiamo di avere questa frase, Ugo corre. Questa è una frase che sta bene, che è una frase ben formata dell'italiano. C'è un nome e un verbo, un soggetto e un predicato dipende dall'analisi che volete dare. Poi avete un singolare e un singolare. Si tengono bene insieme. Vedete quello che può accadere nel nostro cervello, che questa colla che unisce Ugo e corre formando una frase, non è una colla definitiva, perché in mezzo posso metterci un'altra frase. Ugo che Ada conosce, corre. Il legame tra Ugo e corre viene mantenuto anche se c'è in mezzo dell'altro materiale, dove c'è Ada che si connette con conosce e come Ugo si connetteva con correre. E poi posso andare avanti. Ugo che Pietro dice che Ada conosce, corre, è il motivo per cui li vedete, cadono un po' giù a destra. Ugo che Isa sa che Pietro dice che Ada conosce, corre. Ugo che Peo sostiene che Isa sa che Pietro dice che Ada conosce, corre. Nessuno direbbe mai una frase del genere, ma per farvi vedere che la distanza tra due elementi che sono connessi nel nostro cervello e nel nostro linguaggio si può ampliare a fisarmonica. Si può anche immaginare una formula generale. Se due parole x e y sono in relazioni, posso immettere anche una relazione z-w che distanza x e y eppure le mantiene in qualche modo collegate. Ecco, quello che vedete voi qui è appunto il nucleo fondamentale di tutte le lingue umane. Questa capacità di poter continuare a computarsi con un modello che noi chiamiamo tecnicamente ricorsivo. Che effetto ha questo principio generale sulle lingue umane? Ha come effetto il principio fondamentale della sintassi. Nessuna lingua umana può basarsi sulla posizione di una parola in una sequenza. Perché? Evidentemente perché se io baso la posizione di una parola sulla posizione di una parola in una sequenza e poi la sequenza posso allungarla, mi salta la regola. Se io dico fai una cosa alla terza parola e poi in mezzo ci metto un'altra frase, non può nascere una regola di questo tipo. Naturalmente questo esempio, ancora una volta per renderlo concreto, ve lo posso descrivere così. Se io dico Pietro legge libri, come si fa a fare la frase negativa di Pietro legge libri in italiano? Dirò Pietro non legge libri. Ma se un marziano atterrasse ora e dicesse guardate, gli italiani fanno la negazione mettendo la parola non come seconda, si troveremo in balazzo leggendo mio fratello legge libri perché direbbe mio non fratello legge libri dove non è la seconda, mentre noi sappiamo che non diventa la terza. Perché c'è un'espansione di Pietro in mio fratello. Ecco, strutture di questo tipo sono fondamentalmente inesistenti in tutte le lingue del mondo. Allora ritorno alla domanda precedente che era, ma questa assenza è dovuta a un fatto culturale, a un fatto convenzionale come i colori del semaforo o è come non bere, non riuscire a bere un cocktail di cherosine? Cioè è il modo in cui è costruito il nostro cervello. Naturalmente noi potremmo sempre immaginare un'eredità storica. Vedete questo è un mappamondo letteralmente, voltato di 90 gradi, dove abbiamo l'Africa da dove siamo nati tutti, poi siamo migrati progressivamente fino in Argentina, per questo che il Papa dice che è nato a casa del diavolo perché è stato l'ultimo delle fette del continente che è stato abitato dai piemontesi, poi evidentemente, quindi avrà una buona ragione. Ecco, uno potrebbe dire, beh, il fatto che le lingue non contengano regole di un certo tipo potrebbe dipendere dalla prima lingua. La prima lingua mancava a questa regola, si sono trasmesse. Se fosse così va bene. Però l'origine comune potrebbe anche, non è l'unica spiegazione per l'esistenza dei confini di Babele, perché si potrebbe pensare che invece appunto quello che è determinante è il modo in cui siamo costruiti. E allora entrano in scena le neuroscienze. Noi esseri umani di quest'epoca abbiamo due privilegi, tra i tanti, abbiamo anche aspetti etici proprio che non sono tanto privilegiati, che vorrebbe la pena di soffermarci. Comunque, tra i due aspetti positivi della nostra epoca sono due visioni. Noi possiamo vedere la terra dalla luna e il cervello senza aprire la testa. Queste due visioni sono tutte due visioni che mille anni fa sarebbero state soltanto argomento dell'alchimia, degli stregoni, come la terra dalla luna, come il cervello senza aprirlo. Eppure possiamo farlo. Le neuroscienze ci danno degli strumenti con cui io posso vedere l'attivazione del flusso ematico, per esempio il cervello. Mica che si riesca a capire tutto, ma si hanno degli indizi. E allora quello che vi voglio descrivere, nel tempo che rimane, è un semplice esperimento che però vi fa vedere come si possa prendere posizione rispetto alla domanda se o meno l'assenza di regole è convenzionale o dovuta al nostro organismo e quindi a dedurre le conseguenze che noi abbiamo evidentemente sull'apprendimento. Perché le grammatiche non nascono insieme a noi. Un bambino che nasce da una coppia che parla svaili, inglese, dialetto bergamasco, non sarà naturalmente portato a parlare ciascuna di quelle tre lingue. Se viene trapiantato, anzi se viene allevato dalle tre famiglie a rotazione, imparerà la lingua della comunità in cui è. Gli esperimenti di questo tipo sono stati fatti, scusate salto questo, gli esperimenti ne ho fatti con tre gruppi diversi, l'ho fatto a Zurigo, con l'università di Zurigo, poi ne ho fatto uno con l'università di Iena e di Hamburgo e poi un altro ancora al San Raffaele. Parlerò di questo perché è quello che poi in realtà per motivi del tutto sociologici ha avuto l'impatto maggiore ma che comunque è forse anche uno dei più chiari. L'esperimento si è svolto così. Capite che la questione fondamentale è se le regole impossibili sono così per natura o sono per convenzione. Allora noi abbiamo selezionato un gruppo di parlanti monolingui del tedesco. Non è stato facile trovare monolingui perché per esempio negli italiani di un certo livello culturale il trilinguismo se conoscono anche il loro dialetto è un fenomeno frequente, il bilinguismo se conoscono l'italiano e l'inglese. Quindi siamo andati proprio a cercare un gruppo di monolingui nella ex Repubblica Democratica, l'esperimento è uno dei motivi per cui è stato fatto da Hamburgo e Iena, che ci dava un gruppo di persone che erano solamente state esposte a una lingua. È uno degli effetti delle dittature. Sapete che la prima cosa che fa una dittatura è rastrella la lingua perché la lingua oltre a essere un oggetto biologicamente interessante è anche l'identità delle persone. I greci chiamavano balbettanti quelli che non riconoscevano, noi barbaroi, perché la lingua è quella che ti fa, che ti dà forse l'identità immediata, l'accento anche. Noi siamo bravissimi a riconoscere gli accenti. Quando vi faccio conferenze a Milano per esempio alla fine mi dicono eh però lei è di Bologna, non sono di Bologna, abito a 25 km da qui che è Pavia ma passa l'isoglossa della pronuncia della S che la fa rientrare nella pronuncia emiliana. Infatti se vado a Bologna mi dicono eh però voi di Milano qui è molto interessante vedere come c'è questa. Però la differenza si sente e si sente anche nella nostra città Pavia si sente attraversando il Ticino il sistema pronominale che c'è in Borgo è diverso da quello della città. Va bene però vi descrivo ora l'esperimento. Nell'esperimento cosa abbiamo fatto? Immaginate di avere un gruppo di parlanti nativi di una lingua, noi gli abbiamo insegnato una lingua artificiale che conteneva sia regole possibili che regole impossibili. E poi cosa potevamo verificare nel cervello? Potevamo verificare uno degli elementi, l'area di Broca, che è in quella rete che si occupa di fare le computazioni di tipo linguistico che voi che siete seduti in questo momento fate. Se noi fossimo per esempio in Canada che è un paese molto ricco, oltre che essere bilingue, io avrei non solo un traduttore in inglese se parlassi in francese e viceversa, ma anche due traduttore delle lingue dei segni perché ormai è appurato, è uscito un articolo molto bello dei miei amici di NYU tra i quali Lina Pilkanen che ha mostrato come anche la rete che coordina il linguaggio dei segni delle lingue dei segni è la stessa identica definitivamente, non è una gran sorpresa però l'ha finalmente dimostrato. Allora immaginate di essere voi soggetti, a voi insegno delle regole possibili e delle regole impossibili. Misuro come si attiva il cervello e poi progressivamente vi alleno su quei due tipi di regole. E cosa vado a misurare? Vado a misurare due cose, da una parte misuro la padronanza, cioè quanto bravi diventate e mi accorgo che voi sia che le regole siano possibili sia impossibili, per ricordarvi quelle impossibili sono quelle con riferimento a parole fisse, quelle possibili sono quelle a fisarmonica, diventate bravi in tutti e due i casi. Poi però guardo l'attività nell'area di Brocaccio, il flusso ematico con la risonanza magnetica, catturo l'attività ematica dell'emisfero sinistro e capisco come varia rispetto alla vostra bravura. A questo punto posso confrontare le lingue possibili con quelle impossibili e cosa vedo? Che con le regole possibili più divento bravo più l'area di Brocaccio macina dati, quindi richiama sangue e quindi è evidente. Ma con le regole impossibili è avvenuto quello che ogni psicologo e ogni neurobiologo sogna, una doppia dissociazione, cioè con le regole impossibili più divento bravo meno l'attività di Brocaccio si manifesta. Cioè il cervello è più bravo di tutti i linguisti perché sa già che le regole con posizioni fisse che non si trovano in nessuna lingua del mondo sono tali perché il nostro sistema cerebrale non è programmato per quel tipo di lingua. In un certo senso le regole che noi conosciamo sono regole che conosciamo perché abbiamo in qualche modo una preprogrammazione. Vi faccio vedere soltanto ancora in questi tre minuti, c'è una domanda enorme che noi possiamo fare, ma perché noi esseri umani abbiamo la sintassi? Che effetto ci fa avere una cosa così complicata come uno strumento che in fondo, lo sappiamo bene perché questa finestra di disponibilità ci rimane solo fino alla pubertà. Sapete, è questo il motivo per cui Leneberg studiava i dati, il medico che avevo citato. Lui aveva scoperto che se io ho una lesione focale, un ictus, un ictus oppure una lesione focale traumatica, se la lesione precede la pubertà il recupero del paziente è infinitamente più rapido e segue gli stessi passi che abbiamo fatto noi da bambini per apprendere la nostra lingua. Se avviene dopo la pubertà allora è più difficile, è più difficile recuperare, è un po' a macchia di leopardo, non si segue quella specie di percorso naturale che abbiamo fatto tutti noi, prima indicando col ditino, poi la parola, due parole insieme, poi coniugando i verbi, declinando i nomi eccetera eccetera. E questa scoperta ti porta, io per cercare di far capire che funziona la sintassi, cerco di far vedere come assomiglia l'arcobaleno in un certo senso, la nostra capacità di vedere i colori. Noi sappiamo che l'occhio umano è sensibile solo a una ristretta gamma di onde elettromagnetiche, di tutte le onde noi vediamo una fettina, dopo l'infrarosso, scusate dopo il rosso c'è l'infrarosso, evolutivamente ci servirebbe vedere l'infrarosso, sì perché vedremo gli oggetti caldi con un colore diverso rispetto agli oggetti freddi, non ci avrei più, cioè vedere le microonde, beh sì vedrei funzionare un forno, ma poi vedrei anche tutti i canali radio, tutti i canali televisivi, tutti i nostri cellulari, un momento è troppo. È evidente che se io vedessi tutto questo avrei un sovraccarico, come aver acceso una televisione su un canale aperto su tutti i canali contemporaneamente, non vi vedrei più, voi non vedreste più me, ci muoveremmo in una nebbia di informazione. Allora l'occhio diventa un setaccio di informazione che dice guarda vedo solo una fettina, quella dei colori, quella che mi permette di scendere, di non andare addosso a questo perché è chiaro, perché lo vedo, di vedere i vostri occhi, cioè di comunicare. Meno è di più in natura talvolta perché ci permette un filtro per fare le cose. Noi non sappiamo evidentemente se questo filtro è funzionale o no del tutto, però possiamo immaginare che il motivo per cui il cervello è sensibile solo ad alcune grammatiche potrebbe essere simile al motivo per cui l'occhio non vede tutte le radiazioni elettromagnetiche, cioè troppa informazione porterebbe al caos totale, un po' come succederebbe se io avessi lo stesso messaggio ripetuto esattamente due volte. Quindi in fin dei conti la sentassi è un setaccio naturale che permette l'apprendimento dell'oggetto più complicato che gli esseri umani possano pensare, che è la grammatica di una qualsiasi lingua. Sappiamo come mai ci siamo evoluti in questo senso? No, perché l'evoluzione è un fenomeno complicato e che segue delle strade che noi possiamo non conoscere. C'è un fenomeno che si chiama transadattamento, che è la traduzione italiana dovuta a un mio collega maestro, a San Raffaele che è Radoardo Boncinelli, di una parola che viene di solito citata in inglese che è exaptation e che io rendo di solito con questa immagine che mi sembra molto esplicativa, cioè mica è detto che una cosa che noi ci troviamo a utilizzare è stata progettata per quello, noi non lo sappiamo, la storia della biologia e dell'evoluzione è quella. Che le cose funzionino così anche in altri domini della scienza sembra essere vero, pensate che uno dei primi che ci ha creduto ha detto ma allora se apprendiamo in questo modo forse anche il sistema immunitario funziona così. Questo signore si chiamava Niel Siena e si è preso il premio Nobel, è la prima persona che cita nella sua Nobel lecture è Noam Chomsky. Io non so se vi ho convinto, non so se è stato noioso o meno, siccome è citato, no, è stato citato Umberto che è stato, è avuto la fortuna di averlo sia come maestro perché quando stavo a San Marino avevo vinto le borse due, sia poi come collega per poco tempo a Bologna e non si riesce a somigliare ai maestri, sono troppo bravi, sono irraggiungibili, però si parla lì, una sua citazione di ciò di cui non si può teorizzare, si deve narrare e io ci ho provato appunto con un romanzo che parla di apprendimento e lingue impossibili. Grazie. Siccome gli spunti sono stati veramente tanti, se ci sono domande lascerei chiarimenti, domande, lascerei a voi curiosità perché non è, come dire, consueto avere un personaggio come Andrea Moro con noi. Se no, se non ci fossero a caldo, ci sono? Sì? Ok. Perché io poi anche ho dalle cose da chiedergli. Vai. Sono l'ingegnere Bianchi, presidente Aias. Quello che lei ha detto, dato che ho studiato per quattro anni la programmazione neurolinguistica con Bandren, Grindr e Puselik, loro insistono moltissimo in questo sistema. Che correlazione c'è tra quello che lei studia e la giusta programmazione neurolinguistica che viene utilizzata anche in maniera distorta per fare tante altre cose? Guardi, mi sa che la risposta c'è già nella cautela della sua domanda. Cioè, sono molto fanfaniano, però è vero. Nel senso che, vede, in questo caso direi che è quasi solo una sovrapposizione terminologica perché, vede, e poi invece parlo in modo autonomo senza citare nessun altro. Sappiamo talmente poco di che cose i neuroni si dicono per comunicare l'un l'altro che l'idea di riprogrammarli, francamente, mi sembra almeno prematura. Guardi, i lavori che ho fatto vedere, le dicono dove nel cervello si attivano, per sapere cosa si dicono, si deve passare ad altre cose. Io ho rinunciato oggi a far vedere degli altri esperimenti, uno che ho fatto con la neurochirurgia di Pavia con paziente in stato di veglia, in cui tu misuri l'attività elettrica durante l'operazione e che adesso stiamo completando con il centro di Niguarda, invece con una nuova squadra, chissà, magari nel futuro tornerò a parlarvi di questo. Però, ecco, la mia preoccupazione è che se si dichiara che a un livello quasi metaforico va bene, se si pretende davvero di riprogrammare l'attività elettrica dei neuroni, temo che sia prematuro, o spero che sia prematuro, che è diverso. Grazie. Altre? Allora, come si può pensare di sviluppare nella formazione l'apprendimento in più lingue? È una domanda bellissima, è fondamentale. Guardi, tra l'altro io tra i tanti errori che ho fatto sono stato persino coinvolto dai due governi precedenti, per vari motivi, insomma l'ho fatto credendoci, ero stato nominato vice del ministro dell'istruzione dal governo Letta e poi dall'altro governo Stefania Giannini che tra l'altro è una persona che conosco dal punto di vista professionale e l'idea era prendiamo sul serio quello che si sa della linguistica. Noi tutti sappiamo che l'apprendimento della lingua per i bambini è spontaneo fino almeno a cinque anni. Un bambino ha una spugna, tu la metti in un ambiente linguistico, lui cosa fa? Riconosce i suoi simili, non gli adulti, i suoi simili e apprende. Tant'è vero che uno dei problemi della seconda metà dell'Ottocento, voi vi ricordate, era che c'era l'Italia ma non c'era l'italiano e quindi il ruolo di Manzoni e della letteratura è stato quello di formare, forgiare la lingua che noi stiamo parlando perché mancava. Tant'è vero che nella generazione dei miei nonni, nati negli anni dieci, era proibito parlare dialetto e per fortuna è stato allevato da mia nonna che mi parla di dialetto lo stesso quindi ho imparato il dialetto esattamente insieme all'inglese, c'era sette anni. Bisognerebbe che la società si soffermasse su questo fatto e capitalizzasse per esempio le risorse e dicesse non conviene insegnare una lingua straniera dopo la pubertà, cioè nelle superiori, ma conviene capitalizzare sulla scuola, sulle elementari. Il problema è che diventa difficilissimo gestirlo, però questa è una domanda opportuna perché non è che siccome noi non possiamo fare una scelta siamo obbligati a sprecarla in un'altra direzione, quindi una riflessione collettiva su questo andrebbe fatta e tra l'altro l'impressione che ci sia interferenza nei bambini bilingue è falsa. Per esempio ci sono degli studi molto belli che sono stati fatti peraltro anche da centri di ricerca americani su bilinguismo molto forti in regioni come l'Alto Adige in cui si vede chiaramente che i bambini che sono esposti alle due comunità, ve la faccio in modo semplificato, se un bambino mediamente a una certetà impara mille parole il coetaneo bilingue ne impara un pochino meno la certetà, magari 800, sì ma lo impara in due lingue, quindi la somma è comunque maggiore, tant'è e questa è una cosa interessantissima che ci sono degli studi che fanno vedere, proprio studi fatti tra l'altro la Sara Raffaele e Daniela Perani è stata una delle persone che ha capitanato questo tipo di ricerche, le persone multilingue hanno una riserva cognitiva maggiore e quindi hanno una manifestazione ritardata dei sintomi dell'Alzheimer. Vedete siccome l'Europa noi quindi con le nostre tasse paghiamo un sacco di soldi per la protezione in questi casi, forse varrebbe la pena di capire che magari allenando i cervelli giovani li prevengo a manifestare le patologie quando sono cervelli vecchi, insomma questo tipo di osservazione deve essere fatto. Il problema poi diventa che a livello universitario post universitario è molto difficile avere la padronanza della propria disciplina anche nell'altra lingua. Allora mi piace il suo anche perché le persone che vengono a me tipicamente mi chiedono come faccio per imparare una lingua straniera, dico come conosci l'italiano? Perché mentre da bambini come dicevo siamo spugne, immersi nel contesto, assorbiamo e sviluppiamo, se voi prendete una persona fuori dall'età puberale in cui la questione della lingua va fatta tramite uno studio, pensate all'inglese, l'inglese viene spacciato per una lingua facile, non è vero, tra parentesi c'è un dato che viene quasi mai citato, tutte le lingue di tutti i posti del mondo vengono apprese immediatamente lo stesso numero di mesi dai bambini, quindi non esistono lingue che sono più difficili di altre per i bambini, per noi adulti sì, perché c'è un carico enorme morfologico, per esempio per il tedesco devo imparare i casi. Per l'inglese, che viene appunto spacciato per una lingua facile, in realtà provate voi a costruire una mappa uno a uno tra i tempi e i modi verbali dell'italiano e quello dell'inglese, intanto non conosciamo bene i nostri, perché noi confondiamo purtroppo per tradizione l'aspetto col tempo, adesso viene fuori il linguista che è me ma esce subito, però questo è importante perché altrimenti non puoi pretendere di acquisire una lingua solo perché sei esposto alla situazione, quindi la questione dell'apprendimento, noi abbiamo un po' così parlato prima nel backstage nei giorni che hanno preceduto questa cosa, è molto importante perché vedete l'investimento che si fa sull'insegnamento delle lingue esterniche in Europa è enorme e se si spaccia la possibilità di un efficace addestramento alla lingua, semplicemente all'esposizione in un contesto, all'aeroporto, in cucina, dal medico, poi va a fine che crede le persone che hanno speso dei soldi e sono deluse perché il sistema verbale, come dicevo prima, non passa dalla situazione, quindi una delle cose fondamentali sarebbe che la scuola desse una conoscenza tradizionale delle strutture grammaticali così come erano descritte 50 anni fa, questo potrebbe essere già un passo avanti. Confermo la delusione. Che pensa dell'apprendimento inconscio di quando si registra qualcosa da imparare e si ascolta durante il sonno? È una cosa valida, effettivamente efficace o no? Mi risulta che non sia efficace né valida ma è interessante perché, e quindi la sua domanda è una domanda che va presa sul serio in modo scientifico, cioè intanto che cos'è il sonno? Noi siamo lì come persone, mica ci tappiamo le orecchie, il segnale arriva, cosa fa il cervello nel sonno? Deve evidentemente neutralizzare i rumori, avete mai dormito in vacanza, avete preso una vacanza meravigliosa, un appartamento meraviglioso in una radura, peccato che c'è una cascata a un metro. La prima notte non dormite perché con lo scroscio dell'acqua rimanete svegli, passano tre notti e quella cascata non c'è più, il cervello si allena. Quindi è probabile che durante il sonno il cervello in realtà, cioè non è probabile, è sicuro che durante il sonno in realtà il cervello abbia un'azione inibitrice sui rumori esterni, se no ti svegli in cui tutti estranei e siccome è impegnato a far quello non può essere troppo impegnato a un apprendimento di tipo cosciente, si sa però che a livello subliminale per esempio per fenomeni più semplici come l'acquisizione del ritmo o di certi rumori sembra che arrivi lo stesso l'informazione. Non delegherei l'apprendimento di una cosa come la grammatica del tedesco a uno stimolo inconscio, se no impara a russare in tedesco però... Le faccio una domanda che... buongiorno, grazie intanto per... è stato veramente bello lo suo discorso. Magari una domanda che sicuramente ho già sentito varie volte. Ci sono dei genitori che con i figli cercano di fargli imparare magari quattro lingue da bambini facendogli studiare in una lingua, in casa si parlano due lingue e questi bambini ho visto che tendono a iniziare a parlare più tardi. Lei è una cosa che consiglia oppure può creare una confusione che poi uno finisce che ha difficoltà un po' con tutte le lingue? E' una domanda molto precisa che mi permette di ampliare un po' il dominio di osservazione. Allora la questione fondamentale che vi ho parlato è di una specie soggetto assettico che viene esposta a una regola e la prende. Il problema fondamentale è che la veicolazione dell'istruzione linguistica implicita, cioè l'ambiente in cui sei, è fortemente legato all'emotività. Pensate a Pavia ci sono dei ragazzi di colore senegalesi che parlano italiano, parlano francese, parlano loro dialetto svaili e loro italiano l'hanno appreso in una velocità rapidissima, molto più rapidi che alcuni dei miei studenti. E' evidente che la motivazione era enorme, se voi vedete quello che è, ci sono degli studi molto interessanti sull'emigrazione italiana, sapete che se volete sapere come si parlava l'italiano cent'anni fa, voi dovete andare per esempio a Toronto, lì gli emigrati piemontesi hanno surgelato la grammatica e quindi la ritrovi nel tempo. Anche perché un dato che forse pochi si ricordano è che nella seconda metà dell'Ottocento siamo emigrati in 20 milioni dall'Italia, soltanto che eravamo 40 milioni, quindi uno su due, quindi metà emigra, metà rimane, non ci siamo dimenticati di questo, come? In che lingua? No, no ma questa percezione deve radicarsi in noi innanzitutto, nelle persone, noi italiani che incontriamo gli altri, vabbè però non è stato chiamato per questo anche se lo stimolo è enorme, però la sua osservazione è molto importante, quindi direi che dal punto di vista astratto non c'è limite, in una situazione emotivamente ideale un bambino non viene davvero rallentato, magari viene, impara il numero complessivo delle parole nella sua lingua un pochino dopo, ma il numero totale è talmente più ricco e la sua vita è talmente più agevolata che conviene che apprenda più lingue possibili, inclusi ovviamente i dialetti, però non deve essere forzato, tutti abbiamo esperienze aneddotiche, una mia amica aveva i genitori, uno tedescofono, l'altro italofono, veniva obbligata a parlare in casa una lingua fuori l'altra e ancora dallo psicanalista, adesso in tutte e due le lingue evidentemente perché si sono sviluppati i problemi, sono tutte e due facili, quindi direi che la questione va sempre ridimensionata anche nella sua chiave emotiva, noi non vogliamo forzare necessariamente una buffata di lessemi. Grazie. Bene, dobbiamo un po', prego, vai. Dunque Marco nell'introduzione ha parlato di un tema per chi si opera di formazione di apprendimento che è un po' la dimensione temporale dell'apprendimento, volevo una sua riflessione su questo aspetto. Direi che ci sono almeno due coordinate da tener conto, se si tiene per valido e guardate non c'è niente che è dimostrato per vero ma solo un'approssimazione alla verità, quindi quello che ho detto io potrebbe essere falsificato nel giro di qualche anno, noi se questo punto di vista è corretto, un asse che noi dobbiamo considerare è quella della maturazione dell'organismo ultupuntista biologico, quindi decisamente lo spartiacco della pubertà è uno spartiacco che non possiamo eliminare, cioè fino a quell'età l'apprendimento linguistico ma non solo linguistico, anche per esempio quello motorio. Alcune procedure gestuali, per esempio negli sport in cui viene utilizzato il corpo come nel tennis in un modo asimmetrico, sono molto più facilmente apprendibili in modo spontaneo prima della pubertà. Quindi i bambini, i ragazzini e le ragazzine nella nostra società dovrebbero avere un privilegio concesso dagli adulti della società nell'essere posti in una condizione di apprendimento. Questo però ovviamente, si dice sempre che Catone imparò il greco a 80 anni, non esclude minimamente le persone dopo la pubertà dalla capacità di apprendimento. Però allora bisogna essere sicuri il più possibile che le teorie che utilizzano siano, primo, conformi e assecondino quello che so dal punto di vista biologico, quindi ad esempio non farei una lezione di inglese a un 18enne identica a quello che potrei fare a un bambino di 6 anni. Seconda cosa, devo calcolare che a quel punto i tempi di apprendimento possono essere anche una funzione dell'attenzione. La questione dell'attenzione, che abbiamo appunto un pochino discusso e poi la discussione si è mossa su altri spazi, però quello che lei sta dicendo mi sembra che sia molto opportuno, un richiamo molto opportuno a questo, fa vedere che il vero problema della formazione e dell'apprendimento non è la sintesi. Tutte le volte in radio, in televisione mi dicono è vero che gli sms distruggono l'italiano? No. Se le abbreviazioni distruggessero l'italiano l'impero romano durava 5 minuti, perché se lei guarda una qualsiasi lapide ogni parola ha un'abbreviazione. Quello che sta riducendo a brandelli la nostra capacità di formare e formarci è la disponibilità all'attenzione della narrazione. televisione. Ora, io non so quanti anni abbia lei, ma io ho fatto in tempo a vedere Maigret in bianco e nero la televisione. Per i più giovani erano degli sceneggiati che duravano un'ora, io mi ricordo c'era Gino Cervi, entrava nel suo studio, apriva un boccale di birra e era estate a Parigi, tra l'apertura, la bevuta e la pensata senza una parola sono passati 5 minuti. Nelle televisioni moderne ti passano i pannolini, l'automobile e le vacanze, perché noi non siamo più abituati a tenere la narrazione. L'allenamento alla narrazione secondo me è fondamentale. Certo può essere fatto col cinema, forse l'ideale è ancora la letteratura. La lettura dei romanzi potrebbe essere un allenamento ideale per la capacità di ricablarci e di riconfigurare. Guardi, io lo faccio addirittura con l'inglese. Se vi capita, provate questo esperimento, scegliete un romanzo che vi è piaciuto, che avete letto in italiano, provatelo e rileggerlo in inglese, non in modo sistematico, così come andreste in palestra. Voi lo leggete e alla fine capite che avete un vantaggio comunicativo, perché la tenuta di concentrazione nella narrazione è di gran lunga il problema principale nella comunicazione, quindi non la sintesi ma la tenuta. Quindi direi che questa è fondamentale. direi che la risposta a questa domanda ha anticipato una cosa che avrei voluto chiedere anch'io, quindi per motivi di tempo procediamo. Io volevo solo fare una considerazione ed è tutto quello che noi abbiamo sentito ci evoca una questione. Quando pensiamo alla formazione noi pensiamo al trasferimento di basic aggiornati o avanzati o anche di contenuti complessi, evoluti, avanzati, non necessariamente basic, ma per esempio non pensiamo alla generazione di nuova conoscenza. Come se la formazione non fosse un luogo privilegiato anche per generare nuova conoscenza, che è il mestiere suo ed è quello che ci ha raccontato fino adesso. Però direi che in questo caso proprio l'attenzione che hai dato all'inizio è la questione del tenere, togliere gli steccati accademici, il collegio delle università di Milano come altre realtà non solo lombarde, dove lo studente di fisica parla con quello che fa filologia classica, si comunicano idee, è fondamentale. Perché se voi vi aspettate, perché questa è una risposta alla tua domanda, cioè come si genera il nuovo? Il nuovo nasce dal contatto tra i diversi, è evidente. Il contatto tra i diversi va favorito, va favorito a livello interpersonale, va favorito a livello culturale in modo concreto. Poi l'inaspettato è l'unica cosa che capita. Guardate, la cosa più concreta, l'invenzione, una delle invenzioni più concrete che noi possiamo immaginare che la pila elettrica, inventata a Pavia da Volta nel 1799, era una confutazione dell'ipotesi teologica di Galvani che la vita coincidesse con l'energia elettrica. Quindi qualcuno che dal punto di vista teologico dice no, non è vero, tu le tue rane le fai esagitare perché gli metti energia elettrica, ma quella non è vita perché Dio ce la dà in un altro modo, io ti faccio vedere che è sbagliata perché posso provocare scosse elettriche da oggetti che non sono mai stati vivi. Guardate come una questione tipo teologico ha generato un tool, più tool della batteria non c'è, da uno stimolo culturale imprevedibile, stessa cosa alla relatività, speciale almeno questa. Quindi forse l'unica cosa che possiamo fare è costruire dei vivai che non abbiano steccati. Pensiamo come questo della diversità, della negazione, della dialettica centrico la conoscenza in un mondo che va verso l'allineamento, il fatto di essere invece tutti più veloci perché siamo allineati, siamo tutti uguali. Ok, grazie.